Bene l'area di crisi ma un posto di lavoro non può costare 100.000 euro e Massimiliano Scarabeo che attacca duramente le ultime scelte della giunta frattura dicendo far passare vantaggi dell'area di crisi complessa come la panacea dei mali del Molise significa ledere la dignità di tante persone che auspicano interventi immediati per risollevare le sorti di una regione messa in ginocchio dal pressappochismo e da scelte poco efficaci. Non si può pensare di mettere a disposizione 15 milioni di euro per investimenti che nella grande maggioranza delle richieste migliorano solo i processi lavorativi nelle aziende. Lo spirito della legge che finanzia le aree di crisi è un altro incremento dell'occupazione. Bene allora l'area di crisi ma dalla graduatoria appena pubblicata si evince che un posto di lavoro vale più di 100.000 euro. Mi sembra un eccesso esclama Scarabeo. La storia passata ci ha dato una lezione che ancora stiamo pagando. Bisogna lavorare perché si arrivi al Molise del futuro senza dover contare il numero di giovani costretti ad emigrare. Lavorare per un Molise del futuro che veda le attività artigianali proliferare nelle aree interne diventando il volano di crescita di questa regione. Non è facile ma doveroso oltre a essere un preciso dovere per gli amministratori pubblici. Un quinquennio perso quello del governo Frattura perché a mio avviso, continua il capogruppo del PD, non si è voluto pensare per davvero alle reali esigenze dei territori e a quello che il Molise è in grado di offrire. Le azioni messe in campo fino a un certo punto del percorso politico-amministrativo sono state accantonate dal governatore, limitando le azioni riguardanti gli investimenti diretti in favore delle aziende con misure di accompagnamento e incentivazione che avevano determinato immediati vantaggi oltre alla creazione di nuove realtà produttive. In quest'ultimo periodo, conclude Scarabeo, non si è parlato né adottato alcun provvedimento relativo alla rendicondazione e all'utilizzo dei fondi europei, utilizzabili in modo più tempestivo ed efficace e che potevano favorire la ripresa.